Una carta del paesaggio che non solo salvaguardi ma che valorizzi anche il territorio. E questa è la proposta del presidente dell'Associazione Centro Educazione Ambientale, Francesco Cancelleri, al sindaco metropolitano Renato Accorinti. Questa speciale carta è stata curata dall'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio in occasione della seconda edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio. Ed ha delle importanti direttive che guardano verso la salvaguardia e la valorizzazione del nostro territorio, uno strumento che potrebbe fare la differenza e aiutare a superare tutti quei muri burocratici e istituzionali che rallenterebbero i piani paesaggistici. Per questi motivi il presidente Cancelleri chiede ad Accorinti di usufruire di questa carta e di utilizzarla come strumento di programmazione insieme alla carta dei comuni custodi della macchia mediterranea in funzione della pianificazione per il futuro sostenibile. Gestire le trasformazioni del paesaggio, si legge nella richiesta del presidente, è un modo per contribuire alla sicurezza del territorio e prevenire il rischio di dissesto idrogeologico che tanti danni ha fatto al nostro paese, conclude. Un modo per far godere di buona salute il luogo in cui viviamo, perché prendersi cura di lui è un po' come prendersi cura di se stessi. Grazie a tutti.